La ricerca della perfezione è una delle caratteristiche di questa macchina fantastica, nata dal genio di Guy la Limberté. Ogni performer infatti impiega 90 minuti per truccarsi. Ciascun artista ha la propria postazione trucco. Tutti ad inizio tournée ricevono un libro con i passi dettagliati e le foto per realizzare la propria maschera. Ciascun 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 Sienes raiere Ammala, ammala Svecch ti em ammala Tez un cuore Ammala, ammala Svecch ti em ammala Tez un cuore Tez un cuore Tez un cuore Tez un cuore Sienes raiere Ammala, ammala Svecch ti em ammala Sienes raiere Ammala, ammala Svecch ti em ammala Tez un cuore Ammala, ammala Svecch ti em ammala Tez un cuore Tez un cuore Tez un cuore Tez un cuore Ammala, ammala Ammala, ammala Ammala, ammala Ammala, ammala